bella a tutti ragazzi e bentornati sul mio canale se ancora non l'avete fatto iscrivetevi nuovo video sui simpson acquista lo scorpione ragosto gigante per assaporare il piatto più delizioso ok e iscrivetevi anche ragazzi su instagram mi trovate sempre come errosso gamer e andiamo avanti con le missioni che ci sono qua qual è il prossimo passo che mi dici delle mani più interessanti questi fanno pena molto bene posiziona la contella delle scimmie posizioniamo la contella delle scimmie allora va bene qui direi smettila di scimmiottare non posiziona vicino all'ingresso dello zoo per campioni di anima bonus va bene quanto rimasti intrapolano la loro gabbietta sta tranquillo ned alla potenza la contella delle scimmie posiziona l'estensione contella delle scimmie ok bisogna andare la nessun business può sopravvivere la scarsa attenzione degli abitanti di springfield forse un piano che potrebbe fare al caso tuo ok e questo iniziamo a farlo poi vediamo qua ok cosa bisogna fare qui ragazzi ok bisogna andare avanti con i biglietti tutti questi qua riprendiamo questi sono tutti i nostri perfetto bello pieno è effettivamente di visitatori che possono darmi cose ottime bonus bene bene ragazzi andiamo qua questo qui qua sono quelli normali questo questo qua si può aumentare scegliamo la scimmia anche spazio 2 babbuino ok si sblocca a livello 2 perfetto qua iniziamo ottimo ottimo va bene va bene 580 su 1000 ragazzi va bene allora poi andiamo a raccogliere un po tutto quanto ragazzi siamo a livello tot 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 l'ho aumentato prima proprio ieri 89 livello 89 siamo non è male non è male andiamo qua poi li mettiamo tutti a lavorare alla fine di questo video così vi faccio vedere una cosa molto utile se mi ricordo perché permette di mandare tutti a lavorare e decidere per quante ore così ogni personaggio andrà guadagnare sicuramente qualcosa ed è molto comodo perché sennò farlo uno alla volta è veramente in una scomodità unica ragazzi guardate qualche bella questa springfield o un bel po di cose alcuni pezzi li ho fatti proprio mettendomi a capire un po come metterli tutti quanti gli ultimi in realtà un po più a caso ma comunque sempre in ordine prendiamo tutto di qui raga case vi consiglio di farne tante perché comunque si guadagna abbastanza da appunto dalle case di springfield qua c'è un bel bug come sempre capita spesso a volte ragazzi ma ci prenderà anche il biglietto da jet market con 250 dollari sicuramente se ne vengono di più 350 ne abbiamo vinti cento raga andiamo qui dovremmo aver raccolto praticamente tutto dalla città ragazzi c'è ancora qualcosina qui che non avevamo preso ve lo faccio vedere ora quello che dicevo prima dei lavori ragazzi da qua dall'ufficio di disoccupazione si possono andare a lavorare tutti i personaggi che avete su springfield tutti 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 si possono andare a scegliere quante ore fare quindi in base a quando più o meno riaprirete l'app decidete voi ed è molto molto comodo questa cosa qua ci prendiamo tutte le monete possibili ok ragazzi direi che ci siamo abbiamo fatto praticamente tutto qui siamo all'atto 3 ma io gli altri atti sostanzialmente non li ho fatti ragazzi perché forse l'atto 1 qualcosa forse il primo perché ultimamente non ci sto molto iniziamo facciamo iniziare tutti loro perfetto non ci sto dando molto molto corda andiamo di qua volontario in ok inizia inizia perfetto così aumentiamo il livello anche di quello al momento ho fatto solamente un po di mura di qua poi sono da completare da questa parte qui quindi sicuramente andremo a fare tutta quest'area qua dedicata allo zoo ragazzi che non è male è bello questo qui quello che abbiamo visto prima raga la grafica come sempre spettacolare guardate qualche roba perfetto springfield zoo ok aria mangime ok allora vediamo se c'è qualche missione ancora da fare facciamo partire loro quindi qua siamo a posto poi altra cosa di qua qua sono tutti impegnati qui abbiamo fatto non sprechiamo ciambelle potenziale mu experience posizione all'estensione potenzia sì perfetto ottimo 80 su 750 va bene va bene ok questo è quello di prima raga posizione le mura dello zori springfield facciamolo rimettiamo la di qua che me la messa lì vorrei capire vabbè mettiamola qua ok ha deciso lui a dove metterla cioè impressionante sarò no mi devi prendere il muro ok lasciamolo qui per il momento va bene quasi tutti quelli di prima questo qua un milione cento su un milione cinquanta facciamolo andare subito a svuotare le tasche ragazzi tanto un po di dollari ce li abbiamo ci andiamo a fare anche questo è raggiunto il limite per una più risorse non riceverà ricompense relative confermi se va bene vai bisogna sostanzialmente uccidere quanti più robot possibili raga senza farsi attaccare troppo ok ok ragazzi abbiamo fatto un po di casino dai boom ok perfetto andiamo a fare anche una scommessina qui al centro cinofilo dovrebbe essere qua da qualche parte ragazzi non me lo ricordo più eccolo qui scommettiamo su una probabilità di vincita 7 58 15 25 e facciamo questa dai vediamo un po se riusciamo a vincere ragazzi questo ve lo consiglio di fare ogni tanto perché comunque è comodo hai vinto 6.000 dollari ne abbiamo 24.000 ragazzi quindi mi raccomando fatelo qua che cos'è perfetto lì c'è un gioco per qualcuno qua finalmente riusciremo a portarlo livello più alto livello 11 livello 10 ok ragazzi riprendiamo un attimo qui tutto spero che la mia springfield vi piaccia ragazzi perché è piena di cose guardate qua stavo cercando facciamo anche questo qui intanto quello che vi dicevo prima lavori da 24 ore e poi non tutti possono fare lavori da 24 ore quindi come vedete vi fa scegliere se appunto fare da 12 8 4 un'ora io faccio quello da 12 che sicuramente ce l'hanno tutti e come vedrete tutti i personaggi ragazzi si sta muovendo stanno andando a fare le attività che gli avete appena dato sono tutti in movimento questo è ottimo perché si va a guadagnare un bel po perfetto tanto vi state guardando anche un po la città come ragazzi veramente carina secondo me questa è la zona pride facciamoci anche questo iniziamo ok dai dobbiamo far fuori questi qua ovviamente il più possibile ragazzi buono 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 perfetto nuova gente abbiamo vinto un po di spazzatura un po di robe per andare a costruire tutto quanto quindi ragazzi che dire iscrivetevi al canale se ancora non l'avete fatto spero che la serie vi piaccia perché è veramente carina secondo me più che altro viene aggiornato veramente spesso quindi ci sta iscrivetevi al canale ragazzi iscrivetevi a instagram mi trovate come errosso gamer quindi mi raccomando ragazzi iscrivetevi anche lì perché così riusciremo poi a comunicare più spesso in maniera più decente che dire ragazzi tanti like tanti commenti e ci vediamo al prossimo video bella ragazzi